Grazie a tutti Bologna Centrale, Firenze-Santa Maria Novella, Roma-Tiburchina, Napoli Centrale, l'ambiente smart è in testa al treno. Il treno Intercity Night 794 in Rennitaria, delle ore 14 e 28, il turino Porta Nuova è partente dal binario 17, il treno Intercity Night 794 in Rennitaria. Il treno Intercity Night 794 in Rennitaria, delle ore 14 e 28, il turino Porta Nuova è partito dal binario 17, le ore 14 e 4.20. Il treno Intercity, stanno attraffando la Il Salerno Ibbano, alta velocità di 99.39, nuovo trasporto viaggiatori delle ore 14.28 per Salerno, è in partenza dal binario 16. Ferma Milano-Logorego, Bologna-Centrale, Firenze-Santa Maria-Novella, Roma-Tiburtina, Napoli-Centrale. L'ambiente smatta in testa al treno. Attenzione! Si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere, quando non sono completamente fermi. Il Salerno Ibbano-Logorego, Bologna-Centrale, Firenze-Santa Maria-Novella, Roma-Tiburtina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.